Presidente, il dottore Giorgianni ha rilasciato le dichiarazioni, come ogni libero cittadino ha fatto una critica. Perché avete sentito il bisogno di prendere le distanze? È stata una critica indubbiamente eccessiva già come libero cittadino. Aggiungiamo un magistrato, cioè un uomo delle istituzioni che quotidianamente esercita una funzione pubblica a tutela dei diritti delle persone, sale in un palco di piazza del popolo, istiga la folla, decine di migliaia di persone, e arriva a dire che in nome del popolo italiano, in nome del popolo italiano lui dovrebbe esercitare la giustizia quotidianamente nelle aule di udienza, in nome del popolo italiano il Green Pass è abrogato. Quando invece oggi, in nome del popolo italiano, il Green Pass è un requisito necessario a partire dai 15 giorni per accedere nei luoghi di lavoro. Quindi non è una libera espressione, non è un'espressione di una libertà di pensiero, di protesta che ognuno deve avere. Sembra quasi una dichiarazione versiva dell'ordine democratico. Un comportamento, tra l'altro, non improntato a equilibrio e moderazione che dovrebbe condurre la condotta di ciascuno di noi, a maggior ragione di un uomo delle istituzioni. Ecco perché abbiamo sentito proprio il dovere di prendere le distanze, anzi abbiamo scritto una ferma condanna di questo comportamento. L'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, parla a nome dei magistrati in generale, al di là del fatto che il dottore Giordani fosse o non fosse all'interno dell'ANM. Che cosa è richiesto ai magistrati in generale, quindi quali sono le regole che sono dettate, al di là del fatto dell'opportunità o meno delle esternazioni in sé? Vabbè, sempre un comportamento, importato equilibrio, moderazione, rispetto della legge, noi lo facciamo per professione, quindi nella quotidianità sicuramente rispetto della legge e poi, le ripeto, un comportamento improntato ad equilibrio e moderazione, anche nella libertà di espressione, di pensiero. In una legittima protesta non è che uno personalmente può essere anche in disaccordo con un'iniziativa governativa o parlamentare. Qui invece è assunto un atteggiamento di inaudito contrasto, ha parlato addirittura del processo di Norimberga, c'è un parallelismo storico che ci è sembrato davvero inappropriato. Sono in vista sanzioni per il dottore Giordani, sono previste in questi casi? Questo io non lo posso dire, non so neanche se è iscritto all'ANM e quindi non so se l'ANM potrebbe avere un potere sanzionatorio, di controllo e di valutazione in fronte di Giordani. Sicuramente il CSM un potere in questo senso ce l'avrebbe, non so neanche se è fondato o meno la notizia di corridoio del prossimo collocamento a riposo del collega. Per quello che ne sappiamo, lui il primo gennaio comunque va in pensione, questa cosa lo colloca in un'altra luce o rimane la gravità del fatto? Secondo me la gravità del fatto resta perché nel momento in cui lui ha posto in essere questa condotta, comunque è un magistrato e poi è sempre un cittadino che si pone in contrasto con quei valori di libertà e democrazia del nostro paese. Lascio la toga, diciamo abbandonano una toga che comunque fra tre mesi avrebbe dismesso. Sì, questa è un po' la valutazione che tutti fanno, però secondo me la gravità della condotta non viene per questo meno.